Ciao, sono Andrea. In questo corso passeremo in rassegna le due categorie principali del diavolo, ovvero i soli e i santi amici. Sono dei trick concettualmente semplici, ma la loro conoscenza fondamentale per il percorso di chiunque voglia imparare il diavolo. Dopo aver preso le basi, sarà più facile eseguirli in ogni posizione e combinarli tra loro, andando a complicarci la vita, perché i suoi quali a ricomplicarsi la vita piace parecchio. Il livello minimo richiesto è saper accelerare e correggere il diavolo. Per chi è già più avanti faremo delle proposte preavanzate per adattarci alle esigenze di tutti.